ciao e bentornato sul canale leggiamo insieme il messaggio del 20 aprile 2011 tratto dal libro della verità ma prima ti invito ad iscriverti al canale lasciare un mi piace e condividere questo video con altre persone e se ti piacciono i miei video puoi anche attivare le notifiche dalla campanella che trovi in alto così non ti perderai i prossimi video che caricherò leggiamo il messaggio mercoledì 20 aprile 2011 alle ore 17 e 45 figlia mia la tua fede viene messa continuamente alla prova ogni ora del giorno quando vieni posta sotto pressione da parte di estranei allo scopo di respingere questi messaggi questo accadrà sempre e ora che ti abitui a questo tormento puoi essere certa ora più che mai che questi messaggi sono autentici e vengono da me il divino salvatore dell'umanità gesù cristo io mi rattristo particolarmente quando vedo i credenti così influenzati dall'ingannatore tanto da respingere la mia santissima parola quando viene presentata perché il mondo ne sia testimone figlia mia ora sei più che mai capace di ignorare tutte quelle voci che pretendono di parlare con l'autorità conferita loro da fonti divine molti falsi profeti sono attualmente presenti nel mondo e non sono quello che pretendono di essere ascolta solo la mia voce come ti ho già detto in precedenza non hai bisogno dell'approvazione degli altri per continuare con quest'opera sacra questi volumi di sacri messaggi con il tempo verranno visti per quello che sono non devi mai lasciarti tentare da anime mal informate che essi non siano di ispirazione divina perché non è così respingi le menzogne che assaliranno le tue orecchie a causa dell'ingannatore satana egli figlia mia vuole fermare quest'opera e farà di tutto per impedirti di compiere questa missione levati ora e parla con l'autorità dello spirito santo che ti è stata conferita mia preziosa figlia tu sei un messaggero eletto per consegnare come ho detto i messaggi più importanti per l'umanità in questi tempi mi rendi così felice per la forza e il coraggio che hai dimostrato di fronte agli attacchi che hai dovuto subire dalle mani di satana ricorda però devi accettare quest'opera con umiltà che ci si aspetta da te ricevimi nella tua anima ora ogni giorno per ottenere delle grazie supplementari ti amo figlia mia il cielo gioisce per la rapidità della tua risposta alla mia santissima volontà il tuo salvatore gesù cristo questo era il messaggio del 20 aprile 2011 tratto dal libro della verità un altro messaggio sembra più riferito alla gente che si fa chiamare appunto maria divina misericordia ha scelto è stato scelto questo nome perché non non è una persona diciamo che conosciamo niente io questi messaggi come sempre non ve li spiego voglio che li leggiate voi e date le vostre conclusioni se vi fa piacere potete anche scrivere nei commenti il vostro pensiero bello o brutto che sia non importa io vi lascio il link così voi lo leggete e vi ripeto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate io vi ringrazio vedo che interagite anche tra di voi vedo che lasciate tanti commenti ho visto tante persone nuove che si sono iscritte e questo mi riempie di gioia significa che il canale piace che quello che faccio piace mi dispiace solamente che all'inizio non non utilizzavo la mia voce per registrare ma utilizzavo il programma che registrava una voce metallica ma piano piano riprenderò ogni video e lo rifarò con la mia voce in modo che potete sentire anche il calore di una persona umana una persona reale e niente tornando al messaggio vi lascio il link vi vi auguro una buona giornata o una buona serata e che dio vi benedica sempre grazie grazie infinitamente a tutti un abbraccio forte grazie a tutti